Il nemico è in vantaggio Quello è un ricognitore Occhi aperti! C'è un assaltatore! Ricognitore nemico individuato! Ehi! Vedo un assaltatore! Ehi! Vedo un ricognitore nemico! Ricognitore nemico! Ecco una cassetta medica! Ricognitore nemico individuato! Cassetta medica, ecco! Ricognitore nemico individuato! Ricognitore nemico individuato! Ricognitore nemico individuato! Attaccatore nemico! Facciamo attenzione! vedo una mitragliottrice quello è un medico giusto mi servono proiettili cassetta medica per te amico vedo un assaltatore nemico quella è una mitragliottrice nemica ho localizzato un ricognitore che mi racconto assaltatore prendiamolo d'occhio abbiamo quasi vinto attenzione mitragliottrice gli altri proiettili attenzione attenzione un ricognitore nemico è Oh no, oh no, oh no!